Il Pino Solitario di Silex Bay su una roccia ed è l'unico qui in tutta la Baia è una cosa unica A presto Le dune le dune sono arrivato le dune finalmente questa parte qua dell'Oregon meridionale sulla costa è famosa per le dune di sabbia e adesso sarà più o meno penso che sarà così fino quasi a California ok la giornata è alla fine e ho trovato finalmente anche l'ultimo faro che bello ottimo posso andare a mangiare e poi cercare un posto guarda uno dei vantaggi di avere delle piccole moto che assolutamente con una più grande è molto difficile è questo vedi tu dici non la voglio lasciare fuori no perché non è un parcheggio privato che hai qualche dubbio vuoi dormire sereno no ecco vedi una moto piccola te la porta in stanza e ci dormi insieme perfetto ok adesso è mattina e la cosa più importante adesso è riuscire a tirare fuori la moto senza farci scoprire perché di sera era più facile adesso c'è il tizio qui davanti che stanno scaricando un pick up si aspetta aspetta un attimo e poi proviamo speriamo che di non farmi beccare ok io credo è andato è andato aspetta vediamo effettivamente sì 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 è andato beh in pochi crederanno che questa è un'autostrada ma lo è sono sulla 101 in direzione sud california e qui siamo in mezzo al nulla quello c'è la moto attaccata dietro non vale così non vale a presto e qui io è e qui